ciao a tutti bentornati sul mio canale veri asmr io sono vederica e quello che state per guardare oggi è un nuovo video asmr rilassante in particolare questo sarà un get ready with me cioè un video molto molto semplice in cui mi preparerò insieme a voi direttamente dalla mia postazione trucco il trigger centrale di questo video sarà ovviamente il whispering quindi il sussurro e di cosa parleremo vorrei raccontarvi innanzitutto una piccola novità una tentazione a cui ho ceduto e poi parlarvi dell'esperienza romana insieme a Sara del canale saraj asmr e del canale black moon asmr perché qualcuno di voi già lo sa queste due ragazze sono state ospiti a casa mia per alcuni giorni proprio pochissimo tempo fa quindi vi racconterò un po di backstage diciamo così le mie impressioni su di loro e su quello che abbiamo fatto visto che vi ho chiesto se l'argomento potesse interessarvi e mi avete risposto tutti di sì bene indossate le cuffie e iniziamo eccomi allora supportate la mia faccetta struccata ancora per qualche minuto perché devo informarvi del fatto che questo video è sponsorizzato da grada records grada records è un'etichetta discografica indipendente che mi ha contattato qualche giorno fa per inviarmi questo gadget che apriremo insieme adesso e anche per far sì che parlassi a voi dei servizi che offre il gadget una cassa bluetooth con il loro logo vedete che carino eccolo dunque grada records potrebbe interessarvi se siete degli artisti che si occupano di musica di cantanti dei cantatori e se state cercando appunto un'etichetta discografica per produrre i vostri pezzi, infatti vi basterà inviare una mail a infochiocciolagradarecords.com, lascio comunque giù in descrizione tutti i riferimenti del caso con i vostri brani e loro selezioneranno quelli più interessanti e nel caso i vostri facciano parte di questa selezione si occuperanno di tutte le fasi del processo di produzione, quindi dall'eventuale modifica del testo all'arrangiamento, la registrazione, il mix, il master e poi anche la registrazione del videoclip perché hanno un videomaker che appunto potrà aiutarvi a realizzare il videoclip dei vostri sogni, in più vi seguiranno anche nelle fasi della pubblicazione e della pubblicizzazione del brano, includeranno il brano in tutti i loro canali social e si occuperanno anche di organizzare delle interviste, quindi mi raccomando se vi interessa guardate giù in infobox e visitate anche il loro sito che è www.gratarecords.com, io comunque ringrazio Gratarecords per aver sponsorizzato questo video e adesso inizio a truccarmi, inizio spostando un pochino la franga con questa mollettina e vi avevo detto che vi avrei anche parlato di una tentazione alla quale ho ceduto, intanto faccio un po' di skin care, quindi applico il mio contorno occhi che è questo di Argalia Bio, mi ci sto trovando bene quindi lo finisco, allora ho visto che tantissimi, tantissimi creators, youtuber insomma, sia nell'ambito smr ma da molto prima anche appunto nell'ambiente non smr, hanno creato delle liste amazon, cioè delle wishlist cremine, nel quali hanno aggiunto oggetti utili per se stessi oppure per i loro canali youtube, io ero un po' restia a creare la mia perché sapete come funziona? Le persone con le quali si condivide questa lista, quindi in questo caso poi possono, se vogliono, acquistare degli oggetti e farli arrivare come un regalo direttamente dal proprietario della lista, in questo caso appunto da me, ed ero un po' restia appunto per diverse ragioni, però poi ho pensato che sarebbe stato comunque molto utile aggiungere a questa lista oggetti esclusivamente utili al canale e quindi permettere a chi vuole di contribuire in qualche modo a far crescere il canale e a migliorarlo, andate a dare un'occhiata quindi alla lista che includerò nell'infobox come un link e vedete se ci sono degli oggetti che vi piacerebbe che io avessi qualcosa che vi piacerebbe che mi fosse recapitato, ovviamente solo se vi va e non lo so, l'idea comunque che possiate in qualche modo essere così tanto partecipi del progetto da contribuire a renderlo possibile e anche sempre più interessante e migliore, mi piace, intanto sto applicando il mio contorno con gli occhi del momento che è il MAC Mineralize Concealer nella colorazione N15, lo vorrei applicare con un pennellino, come vi dicevo nella lista ho aggiunto solo cose utili per il canale e Amazon ha dopo introdotto anche la possibilità di fare acquisti attraverso un canale specifico e quindi potrete se volete fare i vostri prossimi acquisti su Amazon utilizzando il mio link affiliato a voi non cambia assolutamente nulla ma in cambio il mio canale riceve una piccola commissione quindi grazie per chi lo farà vado a fissare il correttore con la cipria in polvere indissoluble sulky powder di puro bio mi sta piacendo molto per questo scopo e nel frattempo vi racconto un po' dell'esperienza con Telia e con Sara dunque loro sono arrivate a casa mia a Roma il 2 di novembre e abbiamo trascorso insieme i giorni fino al 5 comunque ci siamo divertite ma soprattutto abbiamo avuto modo di parlare tantissimo a posto del fondotinta fluido metto questo di Kiko Wayless Perfection è un fondotinta compatto in polvere che si può usare anche con la spugnetta bagnata però non mi va la mia colorazione è l'N40 è abbastanza simile al mio incarnato anche se ho notato che mi fa venire un po' di imperfezioni sulla pelle quindi non lo utilizzo spesso comunque dicevo abbiamo avuto modo di parlare tantissimissimo di tante cose anche molto private molto personali e personalmente mi sono trovata davvero molto bene Sara l'avevo già conosciuta a Bologna chi mi segue su Instagram lo sa perchè ho pubblicato con lei alcune fotografie e in quell'occasione abbiamo girato un piccolo vlog per il sana la fiera del bio insomma e abbiamo avuto di lei una bellissima impressione di una persona con una mentalità molto aperta nonostante la giovane età di una maturità spiccata che ha reso piacevole le nostre chiacchierate invece Velia non l'avevo mai conosciuta dal vivo tanto si stiamo un po' le sopracciglia con questa matita di Kiko quindi è stata la prima volta che ci siamo viste di persona però abbiamo parlato più volte per messaggio e ci eravamo confrontate su diversi punti e avevo anche avuto modo di capire un pochino la sua personalità da alcuni commenti che aveva lasciato per esempio sul gruppo di ASMR Italia oppure sotto i miei video e mi aveva dato anche lei l'impressione di una persona molto molto intelligente e dalla mentalità aperta e disponibile questa impressione è stata confermata totalmente conoscendola di persona ma ho anche scoperto altri aspetti questo è un mascara verso i bracigli ho anche scoperto altri aspetti del suo carattere e per esempio il suo essere veramente molto molto alla mano una ragazza con un'empatia e una capacità di comprendere gli altri di mettersi nei loro panni che davvero mi ha sorpresa anche se c'è anche in lei una specie di scorza che la indurisce un pochino e probabilmente per tante cose che comunque ha passato e affrontato nella sua vita comunque sono stata super contenta perché mi hanno regalato oltre appunto a questi momenti davvero piacevoli insieme dei pensierini lei e Sara e magari vi metto su Instagram le foto è una tazza per il tè a forma di gatto con una specie di sciarpa sapete quelle che servono per tenere al caldo le tazze poi è bellissima davvero e poi anche un profumatore per ambienti una specie di come posso definirla non un vaso così un vasetto colorato di rosso con del liquido all'interno e dei bastoncini di legno e io adoro avere casa piena di profumi quindi hanno veramente indovinato i miei gusti e in più anche dei tovagliolini a forma di gatto si sono accorte anche Veli e Sara che già si è magico questo mi ha fatto molto molto piacere intanto applico un mascara molto semplice di Essence che però dovrebbe essere incurvante vediamo un po' grazie a tutti i due e con loro ho introdotto un nuovo format nel canale e sono molto felice che siano state le mie prime ospiti anche se immagino che il video di Velia andrà online più tardi rispetto a quello di Sara poi negli stessi giorni è venuto a trovarci anche Dorian, ASMR Dorian, non so quanti di voi lo conoscano ma noi lo adoriamo, lo troviamo assolutamente geniale e poi insomma abbiamo anche chiacchierato un po' della nostra esperienza su Youtube e di cosa significa per noi avere questo canale come ci siamo trovate nella community e quali persone ci apprezzano di più e quali invece non si trovano in linea con i nostri modi di fare e insomma si scoprono tante cose chiacchierando ed è davvero istruttivo conoscere nuovi punti di vista e accorgersi degli altri di come la pensano mi è sembrato che ci conoscessimo da una vita per la confidenza che siamo riuscite in pochissimo tempo a instaurare però allo stesso tempo è stato uno scambio continuo, un continuo impararsi con questo pennellino faccio poco 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 contouring utilizzo la mia terra di Wicon come al solito spero tra l'altro che non vi diano troppo fastidio i rumori ambientali ma come vi ho detto all'inizio questo sarà un video veramente molto molto semplice casereggio giusto per chiacchierare insieme e c'è anche un'altra novità che vorrei comunicarvi ovvero che nei prossimi giorni sul canale sarà indetto un giveaway perché voglio regalare a qualcuno di voi delle cuffie slipfonds se mi seguite da un po' di tempo sapete che ho anche collaborato con il marchio slipfonds sia in occasione dell'evento ASMR che si era tenuto a Roma a maggio sia per l'edizione speciale delle slipfonds quella contenente le tracce di diversi artisti ASMR pensate per farvi rilassare infatti mi abbracino qui di Sephora che è una parte fredda e una parte calda io le biscello perché quella fredda è troppo fredda e quella calda non mi sta bene ultimamente comunque mi sto truccando proprio poco non sto neanche mettendo il blush lo faccio solo quando ho veramente voglia quindi sì ci sarà questo giveaway a breve metto l'illuminante prima di passare alle labbra uso questo ormai uso solo questo è il brunch club di Primark mi sembra che l'abbia comprato da Primark guardate quanto è carino è proprio un colore bellissimo secondo me quindi andiamo a mettere qui 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 e qui ora io con il rossetto sono abbastanza in crisi perché vorrei andare ad applicare D4Danger di MAC che ha questo bellissimo colore vino veramente bello bello è molto armo cromatico tra l'altro senti me però non ho una matita rosso scuro la devo comprare e con il rossetto rosso della matita c'è bisogno per evitare di fare disastri ho solo questo rosso qui che è un po' più chiaro e solitamente non va molto bene contornare le labbra con una matita che sia più chiara del rossetto però vediamo un po' che cosa esce fuori ok Grazie. 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 Intanto c'è la bambina della mia vicina che ride. Ora male è sempre piacevole sentire bambini che sorridono e ridono. Alla fine non è andata tanto male. Vediamo un po' l'effetto finale. Ok, ovviamente dovrò sistemare i capelli. Eh sì, in pratica siamo ancora nella prima parte della giornata e io sono già pronta per la sera. Ottimo. Bene, il mio profumo oggi sarà questo. Dior Addict, tra l'altro non so se riuscite a vederlo ma c'è scritto veri ASMR qui inciso sulla bottiglietta. È andato un po' via il materiale brillantinato però l'incisione si vede ancora. È un profumo buonissimo questo. È un cebriato. È dolce, molto dolce. Sa di fiori bianchi e lo so talco. È decisamente uno dei miei profumi preferiti per l'inverno. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto anche se appunto è stato molto molto semplice. Grazie ancora a Grata Records sia per l'invio di questo piccolo gadget che andrò a utilizzare subito. Magari può essere utile anche per ascoltare video ASMR senza il cuffio. E sia per aver sponsorizzato questo video. E grazie a voi per essere arrivati fino qui. Prima di andare via lasciate un mi piace, vi raccomando. E se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Ma se siete già iscritti ricliccate sulla campanella e scegliete ricevi tutte le notifiche. Mi raccomando. Bene, fatemi sapere se vi siete rilassati. E noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video. Bacini fattosi. Adesso tocca a te. Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista. Oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew. Ah, e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno. Penso possano piacerti. Buonanotte. Buonanotte.